Prosegue l'attività di monitoraggio e contrasto al fenomeno della terra dei fuochi da parte del prefetto di Napoli Michele Di Bari, che ha incontrato i sindaci dell'area nord e i rappresentanti dei comitati sui roghi di rifiuti che si registrano nella zona a ridosso delle province di Napoli e Caserta. Erano presenti anche il viscovo di Aversa Angelo Spinillo e i rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'esercito, impegnati sui monitoraggi. Per il prefetto il lavoro sta dando risultati importanti. È toccato poi al vice prefetto Ciro Silvestro fare un bilancio delle attività svolte. Il vero obiettivo è quello di interrompere la filiera dello sversamento, ha dichiarato. Intanto il comune di Giuliano assumerà 15 agenti della polizia locale part-time per contrastare i roghi tossici. Ad annunciarlo il sindaco Nicola Pirozzi, intervenuto al tavolo tecnico.